ahhh la cosa si amica ahahahahahahah ahahahahah questa è Mario ahahah è il vlog ahahah è il vlog eh vabbè è moesta non so se scrivete momento da immortalare si infatti riscederà ahahah, a metà si è giocato muoviti oltre a te e guarda la merda tra l'altro candela non deve fare buoni tutta l'antività oooh non ti stimate non sei buono si vede che l'ha mai lavata per terra si vede che l'ha mai lavata per terra questa cosa si manchina la scuba non lo fa fare chiara secondo me si vede che si vede che si vede che si vede che mario orizzontale Mario non sei buono ti posso far vedere lo fai subito tu e poi stiamo malata ma come andremo a salare Mario quello che vuoi venite questo è il secondo video che mi fai fatto no no è continuo Mario ma ti rendi conto che stai spostando non stai lavando devi farlo in senso logico Mario non ha logico Mario non sei buono non sei buono io sono un genio Mario come ti fai tappare c'è la vergogna del stesso magico non sei lì sbagliato c'è la vergogna del stesso magico c'è la vergogna del stesso magico c'è la vergogna della terra sei inguaiato da te ne parti Mario 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 Lindo Mario Lindo ma che resta simbolica non è il libro io li ti risponde io non ho mai mamma mia direi che può bastare dai che un sorriso alla fine Mario Lindo bravo Devo intitulare questo video a Mario Lindo. Da ora mi fai siano. No!